L'ultima volta la prova? Non dà la risposta, non dà la risposta, non dà la risposta. Che s'esbronore. 1, 2, 3, pervi deve sentire a parte solo il 3, 4 fai 2, 6, 9 2, 4 27, 28, 29 pervi 8, 41, 32 no, 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 no fai 1, 2, 6, 9 no, fai 1, fai 1, fai 1 non dico, non dico non dico, non dico è uguale è uguale è uguale dai, dai, dai 3, 4, 5, 5 3, 5, 5 dai, dai questo è ecsticato seguismo no, vabbiamo so quale e perché il questo d'arri gdzieś noi del che Sì ma due di questi, non due di questo, due di loro, due di loro, due di loro, due di loro, Sono due pinocchi! Sono due pinocchi Quella è ancora qua Adesso attaccava E praticamente Lui l'ha presentato così Perché hai fatto il gruppo di cui E quello è uno no? Si Poi un altro E due in più praticamente Non sono tre perché Sono scherzo Vai Vai Guarda lui fa fa Hai capito Jack? Vai 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 Il tempo di questo dov'è? C'è uno qua? Volevi fare la solo di baby girl Vai 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 via con quella roba! Vai Ok Vai 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 Volevi fare la solo di a